Ma un'altra lettera? Ancora? Dici che le è piaciuta? Ma certo, guarda, è diventata rossa. Eh, non è un simbol... Ma no, solo che, cioè, insomma, leggere una lettera in pubblico anche io mi vergognerei. Ah, va bene. Cavolo, vabbè, allora metto la roba nell'armadietto e poi la leggo in bagno. E adesso dove è corsa? Eh, ma sicuramente sarà andata a cercarsi un posto più riservato per leggere la lettera. Dai, iniziamo ad andare in classe. Va bene. Nessuno? Va bene. Vediamo. Questa persona vuole incontrarmi? Non lo so, ma poi non la conosco neanche. Eh, oggi? Eh, beh, non so se andarci. Beh, ma almeno finalmente incontrerò questo ragazzo che mi continua a mandare lette. Va bene, ci andrò. Però non me lo sento ancora di parlare con Mike e Kevin. Glielo dirò se mi fidanzerò con questo ragazzo e se sarà una relazione seria. Ehi, hai notato che durante la lezione mia era un po' strana? Non ci parlava come di solito. E insomma, era sempre lì a pensare. Sicuramente stai pensando all'appuntamento di oggi. Vedi chi l'ha preso in considerazione. Ok. Ehi, hai sentito della festa di Halloween? Oh sì, è bellissima. Ci saranno un sacco di decorazioni e cibo. E ottima muccia. Sì, non vedo l'ora che sia Halloween. Ovviamente ci andiamo. Sì, sono invitate tutte le prime. Diuppi, sì, e poi vedete già come è decorata bene la scuola. Oh, Halloween è la mia festa preferita. Dovremmo essere super in. Sì, ovviamente. Ehi, avete sentito? C'è una festa. Ci andremo? Sì, io... A me piace Halloween. Vieni anche te a Mia, vero? Mia? Mia? Mia! Ah, cosa c'è? Ti abbiamo chiesto se vieni anche te alla festa di Halloween. Cosa? Quale festa? Quella che hanno organizzato... Brenda e Giorgia. Sì, quelle popolari. Ah, sì, certo. Se ci venite anche voi. Sì, perfetto. Allora ci andremo tutti. Dring! Su, dai, torniamo in classe. Vedi come è nervosa. Lo sono anch'io. Tranquillo. Oggi, prima dell'appuntamento, passi a casa mia e io ti sistemo. Va bene, grazie. Nel pomeriggio a casa di Kevin. Nel pomeriggio a casa di Kevin. Ecco fatto. Una spruzzatina del profumo di mia mamma. E voilà, sei perfetto. Pronto per andare. Oh, Kevin. Sono molto agitato. Tranquillo. È normale. Ma vedrai. Andrà tutto bene. Adesso vai. Non vorrai fare tardi? Sì. Ok, vado. Se vuoi ti accompagno. Oh, sì. Grazie. Dai, andiamo. Qualche minuto dopo al parco? Bene. Eccoci arrivare. Ecco. Lei arriverà lì e tu sarai già qui pronto ad aspettarla. Lei arriverà qui e dirà. Ma dove è? Poi tu dirai che sei te. Poi lì parli. Insomma, vieni. Insomma, qui e... E poi, come glielo dico? Basta che apri il cuore. Insomma, dai. Io non posso perché... Cioè, insomma, non so farlo. Sei te che provi i sentimenti. Dai, andrà tutto bene. Ora io vado prima che arrivi. Ok. Ciao, a dopo. A dopo. Buona fortuna. Grazie. Io però la scena non me la voglio perdere. Ecco, mi metto qua dietro. Ehi, se vuoi rimanere qui devi comprare un gelato. Ok, allora ne compro uno. Ok, sta tranquilla. Andrà tutto bene. Eccola lì. Ok, il posto è questo. Mike, che cosa ci fai qui? Io... Coraggio. Io stavo aspettando una persona per... Sono io quella persona che aspettavi. Cosa? Tu mi hai mandato tutte quelle lettere e hai proposto quest'incontro. Ehm... Sì. Ma... Ma... Ma cosa... Ma... Anonimami. Ma non... Cosa... Ehm... Non come amici. Ce lo mandate perché ecco... Io... Io... Io ti amo, Mia. Ma... Ma... Che... Insomma, mi sei piaciuta fin da subito. Ehm... Insomma, poi siamo ogni tanti amici e io non riesco più a fingere. Voglio stare... Con te, Mia. Io ho deciso di dirtelo qui, dove abbiamo passato dei bellissimi pomeriggi. Vuoi fidanzarti con me? Io... Continua. Stellina, il nostro episodio finisce qui. Scriveteci nei commenti, secondo voi, cosa risponderà a Mia. E... Iscrivetevi. Lasciate like. Abbonatevi. Condividete il video. E ditemi nei commenti se voi avete mai avuto il coraggio di dichiararvi a una persona o qualcuno si è dichiarato a voi. E diteci nei commenti se volete se lei accetti oppure no. Alla prossima. Un bacio. Ciao. Ciao. Ciao.